Fotocamere, cineprese e attrezzature fotografiche antiche, un paradiso per chi ama la fotografia d'epoca. Domenica 13 ottobre torna infatti Foto Antiquaria, la storica mostra mercato che giunta alla sua 76esima edizione è un appuntamento per appassionati e collezionisti. Dalle 8 alle 17 le loggie del Vasari in Piazza Grande accoglieranno oltre 40 espositori provenienti da ogni parte d'Italia che daranno vita ad una singola rifiera dove sarà possibile acquistare o scambiare apparecchiature sia analogiche che digitali usate o fuori produzione e ci si potrà muovere la ricerca di pezzi rari ed introvabili per arricchire la propria collezione o per riparare un'antica fotocamera. Non mancherà poi una sezione dedicata alla vendita di cartoline, libri e pubblicazioni varie di carattere fotografico. In occasione di Foto Antiquaria, poi venerdì 11 e sabato 12 ottobre, Confartigianato Fotografi Arezzo in collaborazione con la Fondazione Arezzo in Tour organizza un workshop dal titolo Don't Look Back in ritratto come collaborazione tra fotografo e soggetto. Nata nel 1986 e prima in Italia, Foto Antiquaria propone due appuntamenti annuali, una in primavera ed una a fine estate ed è visitata da migliaia di appassionati in cerca di occasioni uniche.